Possibile che dopo tempo e soldi spesi per riqualificare il Pincio adesso dobbiamo vederlo pieno di erbaccia? Inizia così il messaggio di un nostro telespettatore che denuncia lo stato di abbandono del Bastione del Nuti. Siamo al Pincio di Fano dove esattamente un anno fa il Comune ha riqualificato l'intera area regalando così alla città una vera e propria cartolina per turisti ma anche per gli stessi fanesi. Non si fa attendere la risposta dell'amministrazione comunale che ha già provveduto a contattare una ditta specializzata per estirpare tutte le erbacce, gli arbusti e le piante infestanti da mura e monumenti del centro storico. Partiranno la prossima settimana, probabilmente inizieremo dal Pincio che è la zona un po' più sensibile e più importante del centro storico poi in seguito faremo tutti gli altri monumenti, la Rocca Malatestiana, il Bastione Sangallo e via dicendo. Stiamo giudicando la ditta che farà i lavori, sarà la stessa dell'anno scorso quindi è una garanzia e non ci vorrà tanto tempo. Adesso precisamente dipenderà anche dalle condizioni, anche dagli impegni dell'ufficio però penso che in qualche settimana finiranno tutto. E proprio sul Bastione del Nuti le segnalazioni non finiscono qui. Dopo aver sporcato la scorsa volta con del caffè, le sedute della terrazza e aver trovato il responsabile, questa volta sono le scritte con pennarelli indelebili a campeggiare su entrambe le sedie in pietra. Sarà compito ora delle forze di polizia, grazie alle numerose telecamere di ultima generazione, a trovare chi ancora oggi deturpa il bene comune senza aver un benché minimo rispetto delle cose che ci circondano. Ma secondo alcuni cittadini sono tanti altri gli aspetti da migliorare e curare nella zona del Pincio, come il manto erboso ormai secco e scomparso sia nella parte bassa che sopra la terrazza, senza tralasciare poi la non pulizia della statua di Cesare Ottaviano Augusto, che mostra i segni di abbandono e delle bombolette spray del carnevale. Ed infine l'inciviltà e la sporcizia lasciata da cittadini ragazzi, come bottiglie di plastica, vetro, lattine e rifiuti di qualsiasi genere.